ciao ragazzi come state? come potete vedere dal video sto di nuovo girando un video nella postazione vecchia cioè quella del primo video non ci fate caso ho una bolla qui e poi ho il naso tutto screpolato mi sono uscita un sacco di bolle non lo so perchè mi è uscita una qui un'altra qui una qui e anche varie bollicine per la fronte è come se fosse uno sfogo comunque vi volevo far vedere questo colore di smalto è un po' strano come colore però diciamo che non lo so mi andava di mettere questo colore tipo strano che può sembrare un po' madonna ma che schifo queste pellicine può sembrare un po' da da tengo tutto il rossetto per la bocca comunque può sembrare un po' da vecchietta però secondo me molto è molto carino con le unghie corte e allora oggi voglio fare un whispering e vi voglio far vedere degli acquistini veloci però prima voglio salutare un ragazzo che è molto 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 dolce con me come tutti voi e si chiama Mario se aspetti un attimo leggo tutto il tuo nome e anche il tuo cognome perché ci tengo a precisare nome e cognome un attimo c'è la cabbia del mio coniglio qui allora allora Mario pinna quindi ciao Mario ti voglio appena anche a te e soprattutto grazie mille che mi segui che sei dolcissimo sotto i miei video allora oggi sono uscita sono andata a fare un giro perché dovevo parlare con varie persone in qualche negozio solo che sono andata in una gioielleria e ha detto che mi faceva sapere che per il momento non cercava commesse e poi sono andata anche in un negozio di borse di pelletteria diciamo e ha detto che aveva già delle ragazze in prova e che se era aveva bisogno di qualcuno mi chiamava dicono tutti quanti così e poi nessuno ti caga è un periodo troppo veramente stressante è difficile difficile per me perché quelle poche volte che esce qualche lavoro mi mi fanno andare lì a parlare poi non ti calcolano manco di striscio cioè io dico io devo fare la commessa non è che devo fare l'aiutante della regina Elisabetta che devo fare chissà quale prova che cavolo dei panni li sanno posare tutti un po' di gentilezza un po' di pazienza voglio dire questo ma a quanto pare proprio qua se non sei figlia di non so chi non ti calcolano proprio neanche di striscio comunque speriamo che esce qualcosa più che altro per una soddisfazione personale ok ma proprio per un fatto economico comunque vi volevo far vedere una una cosa avevo voglia di coca cola e ho comprato questa qui guardate questa che sta scritto sopra dai un bacio al VIP a me la coca cola piace però mi piace di più la pepsi perché meno gas allora è sempre cassata però il sapore della pepsi è molto più buono secondo me mi piace che adesso stanno facendo che ogni ogni coca cola ha una scritta diversa mi piace sceglierla però questa non l'ho scelta mi è capitato no non mi sento una VIP magari sono andata non avevo nient'altro da fare quindi sono andata in un negozietto tipo di casalinghi di detersivi aspettate forse lo metto a fuoco comunque sono andata in un negozietto tipo di casalinghi di detersivi e robe varie in pratica non so se ci fate caso adesso vi voglio dire una cosa guardate il mio colore di capelli non so se lo vedete da sopra è più scuro il sotto è molto molto chiaro aspettate forse adesso non si vede tanto non so se si vede però ci sono delle ciocche proprio bionde ogni tanto magari se prendo la fotocamera vi faccio vedere allora vedete ecco e adesso vi li metto a posto perché sembra una nana proprio non so se vedete adesso sono chiari che è una cosa cioè sono belli perché sono chiari ok però mi sono un po' scocciata di questo biondo sui capelli sembrano rovinati e quindi ho comprato questo e questo qui è un colore non ho mai sentito questa marca sinceramente si chiama si chiama avantime 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 ed è un 3.0 castano scuro e sta scritto che è un castano scuro e io in realtà ho il castano scuro di colore ed è sta scritto che ha una formula all'oreo all'olio di arcan senza ammoniaca nutre tonifica e sta scritto che in pratica dovrebbe diventare così da dietro ci sono le varie colorazioni dal biondo così dal ramato così e dal dal più scuro un po' più chiaro io diciamo che ho così penso forse non lo so sinceramente non lo so nemmeno io più perché magari un giorno vi faccio magari un giorno vi faccio un video sulla tipo una my hair story la storia dei miei capelli dove vi faccio vedere tutte le foto con tutti i colori che ho cambiato perché c'è stato un periodo dove ero anche bionda platino anzi arancione no bionda comunque sta scritto che comunque senza ammoniaca e che c'è una formula all'olio di arcan che favorisce la riparazione del capello nutrendolo boh speriamo comunque ragazzi questo pacco è proprio mamma mia mi fa troppo rilassare starei proprio alle ore mi brutte sempre il naso allergia poi mi serviva un gel detergente perché proprio perché come vi ho detto ho molte impurità anche se io mi strucco ogni sera regolarmente ogni volta che io mi trucco cioè pure adesso che stamattina sono uscita adesso mi strucco però mi escono le bolle allora ho pensato forse ci vuole un detergente migliore anche perché mi era finito e quindi ho preso questo qui della nevia l'ho pagato 3,90 euro ed è un gel detergente rinfrescante acqua e effect e per pelli normali a miste quindi io ho la pelle diciamo mista detergente in profondità e rivitalizza per una pelle incredibilmente fresca qui sta scritto la pelle profondamente detersa e rinfrescata straordinariamente liscia e morbida diciamo come appare dopo comunque speriamo che speriamo che funzioni vediamo l'odore perché ancora non l'ho non l'odorato non voglio fare troppo casino però ha un buon odore mamma mia la consistenza è tipo così è gelosa oh le bolle che figata poi ho preso uno smaltino questo qui della New York Color il 131 Chelsea Cherry mi piacciono molto questi smalti durano una settimana proprio proprio sì infatti questo è scritto smalto a lunga durata comunque è vero adesso dalla videocamera appare un po' arancione però in realtà è un rosso ciligia molto molto bello e portabile e poi guardate com'è bello con il giallo poi e l'ho pagato un euro e 99 poi ho preso queste spugnette per detergere il viso così che uso questo lo spalmoso di questo e me lo metto in fondo e l'ho pagato i 70 centesimi dell'acalypse sta scritto che rimuove dolcemente il trucco e niente ragazzi questi sono i miei acquisti spero vi sia stata utile grazie ancora che mi seguite vi mando un grosso bacio ciao ciao ah volevo salutare anche Roberta scusami se a volte non rispondo sotto i tuoi messaggi ma solo che non c'è non è certo a sti non rispondi perciò ma io comunque vedo sempre che mi segui e ti mando tanti tanti baci e ti voglio tanto tanto bene sì dolcissimo